Rischio concreto di vivere un autunno caldo dal punto di vista sociale e dell'ordine pubblico e la previsione annunciata dalla ministra dell'interno Luciana Lamorgese. Alle difficoltà di imprese e lavoratori potrebbero accompagnarsi gravi tensioni con il manifestarsi di focolai di espressione estremista. Aveva già scritto in una circolare inviata ai prefetti lo scorso 10 aprile in pieno lockdown. Una mancanza di lavoro che da settembre potrebbe generare soprattutto nel territorio ionico già aggravato dalla situazione difficile dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal problemi di ordine pubblico. C'è il ministro competente che continua a Lamorgese che continua a dire degli interni che a settembre ci possono essere anche problemi di ordine pubblico legato proprio alla perdita di posti di lavoro che si creano, che si perdono in Italia. Ma il sud è già una realtà diversa rispetto al nord con posti di lavoro un po' precari e quindi se si perdono quei posti a partire dalla situazione dell'Ilva io penso che si creano veramente problemi di ordine pubblico. Noi non vogliamo che questa cosa accada, vogliamo che ci sia attenzione da parte del governo prima per preservare i posti di lavoro e in secondo luogo per crearne altri, perché si preservano se si fanno gli investimenti necessari. Per il consigliere regionale Renato Perrini il lavoro si preserva solo con investimenti necessari e con il confronto delle diverse parti, sociali, sindacali ed istituzionali, senza inutili divisioni politiche. Bene che fanno a fare questi incontri per far vedere che la politica, quando si tratta di lavoro, non bisogna dividersi. Cosa bisogna fare? Bisogna insistere a far diventare Grottaglie e la Puglia al centro dell'Italia e dell'Europa su questa problematica, perché se anche con Leonardo c'è questa crisi, già abbiamo i problemi dell'Ilva, l'Indotto e anche le famiglie del territorio vanno in grosse difficoltà. Io alcuni mesi fa avevo già lanciato questo grido d'allarme e anche le famiglie del territorio.